30 chilometri al secondo, 1800 chilometri al minuto, 108 mila chilometri l'ora. Questa è la velocità con cui la terra ruota intorno al sole. 1668 chilometri l'ora è la velocità di rotazione della terra sul proprio asse. Fortunato a dieci anni è un futuro segnato, come lo hanno tutti i suoi compagni di scuola e gli abitanti del luogo dove abita. Pianura è un quartiere della periferia occidentale di Napoli e negli anni 80, gli anni dell'infanzia di Fortunato, Pianura è soprannominato il Far West. La camorra in quel periodo raggiunge l'apice del suo potere grazie all'accaparramento dei finanziamenti per la ricostruzione del dopo terremoto. E gli ultimi baluardi di una vita contadina vengono velocemente sepolti sotto colate di cemento e il sangue dei morti ammazzati. Ma non è solo la camorra a condizionare la vita di Fortunato. La sua famiglia è gravata dalla povertà che in quegli anni di profonde mutazioni sociali è sentita come un'unta. Sono gli anni dell'affermazione dell'edonismo come valore di vita, del tutto intorno a te, delle cascate di gettoni d'oro. Fortunato vive in due stanze bui al piano terra di una palazzina fatiscente di cinque piani col padre Salvatore che ha appena perso il lavoro, con sua madre Anna Maria, una donna con pochi anni e troppi figli. Nonna Matilde, perennemente in lutto e soffocata dal rancore. Tre fratelli Castrese, Mauro e Adriano e un quinto in arrivo Carlo. Con queste premesse un ragazzino della sua età ha due destini possibili. Essere sopraffatto dalla miseria e dalla violenza o impugnare una pistola. Un giorno tornando da scuola, Fortunato si imbatte nel cadavere di Spider-Man, un ladro di appartamenti caduto dall'impalcatura dove si è arrampicato. Nella piazza sottostante la piccola folla radunata assiste attonita all'ennesima tragedia della miseria. Quell'evento però scatena in lui domande alle quali diventa urgente rispondere. In piazza sopraggiunge un califfone con tre minorenni a bordo, uno di questi è Nasegana, un compagno di scuola di Fortunato. I tre sembrano aver trovato le loro risposte e le ostentano con un comportamento da boss. Per loro Spider-Man è solo un perdente. La sua morte è ridicola, è ciò che merita. Fortunato allora si rende conto che anche lui morirà da fesso come Spider-Man se non trova la forza di somigliare a quei tre balordi o di trovare una via d'uscita alla tensione che lo opprime tra le mura domestiche e tra le strade circondate da palazzi fatti del cemento depotenziato della camorra. Fin da bambino quindi Fortunato si è dovuto chiedere chi fosse e quale forma avrebbe dato alla sua vita. Di fronte al cadavere di Spider-Man con le ossa rotte e immerso in una pozza di sangue, osservando i volti feroci dei suoi coetanei inghiottiti dalla violenza, Fortunato sente per la prima volta il bisogno di dare alla sua vita un significato diverso. Il suo destino si compirà lontano dalla sua terra. Si tratta di timidi frammenti di un futuro ancora confuso, fumoso, ma ai quali si aggrappa con tutte le sue forze. Quei sogni non possono essere solo una fuga dalla realtà, devono avere un senso. A pianura però, soprattutto se sei povero, essere bambini o sognatori è uno stigma. È proprio una sigana ricordare a Fortunato dopo aver rotto la faccia ad un suo compagno di scuola che chi è nato tondo in un buon muri quadrata. La maestra Giulia tuttavia sa che i sogni di quel bambino possono diventare viaggi. Il ragazzino ha talento, canta bene, e anche se in quel momento riesce solo a immaginare di diventare un cantante neomelodico, come quegli artisti delle emittenti regionali che venivano trattati da veri e propri divi, Giulia coltiva le aspirazioni del bambino offrendogli altri orizzonti. L'immagine sul sussidiario dell'orma di Neil Armstrong fa breccia nelle fantasie di Fortunato. Anche lui potrebbe raggiungere la luna, lasciare pianura, ma questo significherebbe esporsi all'angoscia di una rottura dolorosa. Il ragazzino comincia a tenere un diario segreto in cui parla con se stesso, si fa domande, abbozza risposte, annota le sue giornate, tratteggia i volti, i gesti, le emozioni dei suoi familiari, delle persone che lo circondano, apre un cantiere nella sua anima e valuta gli strumenti a disposizione per realizzare il sogno della sua vita, dà libero sfogo alla fantasia e un corpo d'inchiostro alle sue aspirazioni. E' forse su quelle pagine che getta i semi del suo viaggio, della sua odissea. La situazione economica della famiglia intanto si aggrava, è fortunato e costretto a lavorare di pomeriggio per portare soldi a casa. E' questa la condizione per continuare a studiare. I suoi sogni si impattano sempre più aspramente con le esigenze concrete della sopravvivenza economica e psicologica in quel quartiere. Dopo le insistenze della maestra Giulia, Salvatore e Anna Maria portano il ragazzino a fare un provino per Tombolino, un programma canoro per bambini molto seguito. Per partecipare a quella trasmissione però bisogna comprare un'enciclopedia da 700.000 lire e la famiglia non può concederselo. La segana ha ragione. Per sopravvivere nel Far West bisogna rinunciare ai sogni. Ho un ricordo ancora vivo della mia infanzia trascorsa a pianura. Non sono i fatti di sangue, la violenza, la povertà ad essermi rimasti però indelebili. Devo al bambino che sono stato e alle persone che ho avuto la fortuna di incontrare, la capacità di filtrare quel mondo attraverso lo strumento della fantasia, della creatività, del mito. Ho capito poi da adulto che il ricorso a quello stratagemma non è stata solo una fuga, frutto del pensiero magico tipico dei bambini, ma un processo di identificazione attraverso il quale penetrare la realtà e i suoi significati più profondi. Di quel mondo grigio rimane in me e forse sarà così per sempre il sapore della malinconia, ma anche il bisogno di riscatto, la tenacia, la forza per reinventare il mondo che solo i bambini sanno avere. Rimangono i volti cupi, le angosce, la paura, la rabbia di chi avvelena la sua vita e non sa quello che sta facendo. Mentre prendeva forma il futuro a cui tutti andavamo incontro, che spuntava già dagli scaffali dei primi centri commerciali, nei quiz con premi milionari, nelle prime prove di colore tv, gran parte della gente di provincia come noi era condannata a guardare senza poter toccare. Gli anni 80, in poco tempo, avrebbero dato forma e contenuto al mondo contemporaneo, segnato dalla pulsione all'avere prima ancora che all'essere. In fin dei conti il seme della violenza si alimenta di frustrazioni. Fortunato però fa di pianura e di quegli anni un palcoscenico su cui far convivere il sogno e la realtà più cruda. Le province del Meridione ancora oggi sono luoghi in cui le vicende umane vanno in scena senza filtri, senza sovrastrutture narrative, sono osservatori privilegiati sulla salute morale, intellettuale ed etica di tutta la società. Le malattie del mondo dilagano senza tregua nelle province e le vittime privilegiate sono, oltre alle donne, i bambini. In quei luoghi essere bambini è pericoloso. Si rischia di essere sopraffatti, schiacciati, distrutti. Allora fin dall'infanzia si comincia a imitare gli adulti che, come in guerra, devono schivare pallottole per sopravvivere. Sono le pallottole della malavita, della povertà. Alcuni decidono di non essere bersagli e allora impugnano armi per essere sicuri di potersi difendere e colpire. Fortunato però ha deciso di dare una possibilità ai suoi sogni. Ha creduto, sentito, sperato che fuori dalle mura del suo quartiere ci fosse una possibilità di riscatto. Decide quindi di partire, di essere straniero nella propria terra. Se oggi a 50 anni mi guardo indietro vedo ancora con chiarezza il bambino che sono stato. Riesco a provare quello che provava, a vedere quello che vedeva, essendo ancora forte il richiamo al viaggio che ha cambiato la sua esistenza, il vero talento di Fortunato. Forse è stato quello di aver sempre percepito se stesso come un uomo, un essere universale che non viene definito solo dalle condizioni in cui è nato. Quelle sono circostanze secondarie. Il bambino che sono stato ha sentito il bisogno fin da subito, proprio tra quelle strade di violenza e di morte, di entrare in contatto diretto con la vera natura del mistero che lo abitava. Allora ha intuito che era vero che viveva in provincia, ma in provincia di se stesso prima ancora che di un luogo fisico. Una volta durante una seduta di meditazione ho avuto un'esperienza molto forte che ha confermato il sentire del mio bambino. Mi sono reso conto, mentre ero rilassato, di essere osservato. Non l'ho capito subito, è stato come vedere per caso qualcosa nella coda dell'occhio. Mentre i miei sensi, la mia attenzione, i miei concetti allentavano la presa sul reale, c'era la presenza in un angolo di questo osservatore di cui vi parlo. Per un istante, un solo breve istante, sono riuscito a posare lo sguardo su di lui. Ero io stesso. Ho visto me nel futuro, nel presente, nel passato. Una presenza che univa in un solo momento il mio percorso nel tempo. Ero io mutato in quello che da sempre sono, ero e sarò. Ho sorriso quando mi sono riconosciuto. Poi tutto è svanito e sono tornato a solcare il mare della vita quotidiana. Quella esperienza però ha segnato per sempre la mia identità. Da quel momento ho saputo che fortunato bambino era tenuto per mano fin da piccolo dall'adulto che sarebbe diventato. Come lo sono adesso a 50 anni, tenuto per mano dall'uomo al di là del tempo e dello spazio, che mi attende alla fine del viaggio e che sta mutando con me in quello che è da sempre. 1668 km l'ora invece la velocità di rotazione della Terra sul proprio asse, misurata all'equatore, il punto più distante di qualsiasi altro punto sulla superficie terrestre rispetto all'asse di rotazione. Da che l'uomo esiste? È un viaggiatore che lo voglia o no, che ne sia consapevole o meno. La nostra condizione ordinaria è indissolubilmente legata al tema del viaggio e della trasformazione. Mentre conduciamo le nostre vite nella cronaca del quotidiano, viaggiamo su un vascello di roccia, acqua, aria, fuoco e spazio che si muove in continuazione a velocità elevatissima nel vuoto. La cosa sorprendente che non molti sanno è che, proprio come una nave in mezzo al mare, la Terra non viaggia sempre alla stessa velocità. Il suo percorso è infatti condizionato da una serie di fattori che ne mutano significativamente la progressione. Anche se esistono elementi regolari che agiscono in maniera prevedibile sulla rotazione del nostro pianeta, come le forze gravitazionali indotte dal Sole e dalla Luna, esistono attorno, sopra e dentro il pianeta forze che ne influenzano il moto con effetti rapidi e talora inaspettati. I terremoti, i venti atmosferici, le correnti oceaniche, ma anche le attività umane, ridistribuendo le masse attorno al pianeta, alterano l'orientamento dell'asse di rotazione della Terra e la sua velocità, spesso in maniera imprevedibile. Lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, per esempio, aumentano la massa del mare e quindi del pianeta, che è costretto a ridistribuire i pesi per trovare un nuovo punto di equilibrio sul proprio asse, che è una specie di albero maestro del nostro immaginario vascello, finendo addirittura per ridurre, per ora ancora in maniera impercettibile, la durata del giorno. Il modo in cui viviamo nel nostro microcosmo, quindi, ha ripercussioni dirette sul macrocosmo che abitiamo. L'Odissea, tema di questo TED, poema attribuito a Omero che narra del mitico viaggio di Ulisse dopo la fine della guerra di Troia, forse non è altro che un'allegoria della nostra reale condizione, della condizione umana. Come Ulisse, l'uomo è in viaggio, con il suo vascello, la Terra, irrotta verso una meta epica. Ma di che tipo di viaggio si tratta? L'Odissea viene definita da molti critici il poema del ritorno. Il corpo centrale dell'opera, infatti, è il racconto che Ulisse fa delle sue avventure, delle peripezie avvenute in mare allo scopo di tornare a casa. Ulisse, Odisseo, colui che odia, o molto più probabilmente nessuno, ritorna a casa affrontando un mare che conosce ma che muta in continuazione perché soggetto alle circostanze. Il pianeta Terra non si muove nello spazio in maniera rettilinea. Il suo è un percorso ellittico intorno al Sole, un viaggio contraddistinto da continui ritorni. Come il mare che riporta Ulisse a Itaca, lo spazio-tempo che solca la Terra, pur essendo sempre lo stesso, non è mai uguale a se stesso. Nello spazio-tempo, esattamente come in mare, le circostanze mutano in continuazione. Ulisse, per ritrovare la via di casa, la sposa, il figlio, la sua gente, si concede ai flutti del tempo, alle mutevoli circostanze del suo quotidiano esistere. Ulisse diventa eroe in viaggio. Sfida se stesso, la sua lussuria, la sua avarizia, la gola, l'accidia, l'ira, la tristezza, la vanagloria e la superbia. Tempra in lui virtù come la fede, la speranza, la carità, la giustizia, la temperanza, la prudenza, la fortezza. La meta del suo viaggio è casa, il centro gravitazionale che tutto richiama e tutto respinge. Un viaggio circolare intorno a se stesso. Quando finalmente giunge a casa, la trova però mutata. La sua avventura non ha cambiato solo il suo futuro, ma anche il suo passato. La nostalgia del passato coincide allora con la nostalgia del futuro. Gli dei che sussurravano nelle orecchie di fortunato bambino mentre percorreva le strade della sua infanzia o in quelle di Ulisse mentre lo richiamavano al viaggio che lo avrebbe reso eroe, chiedono la partecipazione dell'uomo per compiere il loro comune destino. Il Dio che crea l'uomo è dall'uomo creato. Un tragitto circolare in cui ogni punto è passato, è presente, è futuro. Un tragitto di continue province lungo il quale Ulisse si trasforma in quello che è sempre stato. Io credo che la prossima sfida dell'essere umano sarà quella di viaggiare nello spazio infinito. Ma per quel genere di viaggio ci sarà bisogno di una nuova scienza che potrà manifestarsi solo dopo una nuova consapevolezza. La tecnologia di cui avrà bisogno l'essere umano sarà proprio la consapevolezza. Uno stato capace di congiungere l'infinito al quotidiano, il microcosmo al macrocosmo. Allora e solo allora egli entrerà in armonia con colui che tutto crea e tutto distrugge in ogni istante e che diviene infinito. Una conquista che non potrà essere solo intellettuale, ma che coinvolgerà necessariamente le categorie dello spirito e dell'anima come strumenti. L'alfa e l'omega, il principio e la fine si congiungeranno e daranno senso al paradosso della nostra esistenza. Un percorso che richiederà probabilmente altri ammutinamenti, altre illusioni, battaglie, sangue, guerre, come sta avvenendo nei nostri giorni. Altre province, altri abbandoni e ricongiunzioni. Avremo bisogno, come accade anche in questi giorni, di tenerci aggrappati durante le tempeste, aggrappati le nostre idee, le nostre ideologie, le nostre convinzioni, le nostre fedi, finché le onde non ci travolgeranno, lasciando cadere in mare la zavorra. Regole, leggi, convinzioni ancorate a un passato che non esiste più come lo abbiamo lasciato, perché ci attende mutato con noi nel futuro. Il paradiso terrestre non esiste più se non nel futuro, come era, come è e come è sempre stato. Tradire e tradizione, in fin dei conti, sono concetti che hanno la stessa radice etimologica. Un'impresa questa che richiede eroi capaci di partire, di tradire tutto, anche se stessi. Forse è per questo che Ulisse è nessuno. Solo diventando nessuno si può accogliere tutto. 30 km al secondo, 1800 km al minuto, 108.000 km l'ora, questa è la velocità con cui la Terra ruota intorno al Sole. 1668 km l'ora è la velocità di rotazione della Terra sul proprio asse. 299.792.458 m al secondo è la velocità di propagazione di un'onda elettromagnetica e di una particella libera, senza massa, meglio conosciuta come velocità della luce nel vuoto. La massima velocità che riusciamo a percepire se osserviamo l'universo con le attuali capacità. 810 metri al secondo. È la velocità della 221 Remington, la pallottola di metallo più veloce che conosciamo, ma non ci potrà raggiungere se intanto avremo imparato a viaggiare alla velocità della nostra anima, della nostra consapevolezza, qui e ora, ora e sempre, adesso e mai, l'Alfa e l'Omega. Questa è la velocità della nostra vera natura, la velocità del nostro viaggio di ritorno a Itaca. Grazie.